È un metodo innovativo perché tiene insieme il finanziamento pubblico, il finanziamento del MIUR con il finanziamento dei fondi di investimento e quindi questa collaborazione tra il MIUR, l'Agenzia del Demanio, la Fondazione Patrimonio del Lanci, Lanci stessa, ci dà la possibilità attraverso lo strumento di InVimit, che è una società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di poter procedere con la ristrutturazione di edifici scolastici e contemporaneamente con la realizzazione di nuovi edifici scolastici con questa doppia tipologia di fondo. Per noi è una sperimentazione, questo progetto pilota fatto da sei comuni credo possa diventare un'esperienza replicabile nel resto del nostro paese e da parte dell'Anci c'è la massima disponibilità su un tema molto sensibile che è quello dell'edilizia scolastica che vede impegnati i comuni, le province e le città metropolitane.